Quando il destino ha già deciso che due persone si vogliano bene, non sempre a chi non vale, perché nel tempo è già finito di oggi, non sempre a chi non vale, perché nel destino ha già deciso che noi dobbiamo, non sempre a chi non vale, perché nel tempo è già finito di oggi, non sempre a chi non vale, perché nel tempo è già finito di oggi, che noi dobbiamo morire di oggi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.